Boom di richieste nelle farmacie per il rilascio del Green Pass. Anche nel bellunese la domanda risulta molto alta dall'annuncio dell'obbligatorietà del passaporto verde a partire dal prossimo 6 agosto. Protesta Federpharma Belluno non siamo delle stamperie, questo nuovo impegno sottrae tempo prezioso la nostra attività principale che è quella della consegna dei farmaci, tuona il presidente Roberto Grubis. A rivolgersi alle farmacie sono tanto gli anziani quanto e forse di più i giovani, tutti accomunati dalla difficoltà di scaricare dalle applicazioni e la certificazione necessaria per l'ingresso nei luoghi più affollati, soprattutto al chiuso. Ma la polemica dilaga a macchia d'olio e dopo il no al Green Pass del presidente di Confcommercio Paolo Doglioni arriva anche quello dei sindacati dopo la proposta di Confindustria di renderlo obbligatorio anche per andare a lavorare. È abbastanza come dire provocatorio la questione che Confindustria sta ponendo in questi termini. Io credo che una delle emergenze attualmente sia ancora quella degli infortuni sui luoghi di lavoro. Secondo De Carli la questione doveva essere posta un anno e mezzo fa quando nelle aziende non si fornivano neppure le mascherine per lavorare. Io credo che questo non sia assolutamente un tema che i datori di lavoro dovrebbero utilizzare per fare delle scelte o indagare su come i propri lavoratori intendono come riaffrontare tutta la campagna pandemica. Dello stesso avviso Michele Ferraro della Will. Il vaccino non è obbligatorio, noi spingiamo che tutti si facciano il vaccino, lavoratori e cittadini, tutti quanti. È una provocazione soprattutto questa di Confindustria Belluno che qualche giorno fa ha chiesto questo tipo di azione ma noi come sindacato al momento e ad oggi assolutamente non l'appoggiiamo.